ciao ragazzi intanto che Leonardo è a scuola volevamo farvi vedere questa teca che abbiamo costruito dove all'interno abbiamo messo le due crisalidi che abbiamo preso a Entomodena non so se vi ricordate il video Leonardo aveva scelto queste due crisalidi e le abbiamo messe su un bastoncino di legno e un tronchettino d'albero dove abbiamo sistemato le due crisalidi che dovrebbero nascere a giorni le farfalle dovrebbero fare capolino a giorni non so se le vedete vediamo se mi metto così sono proprio appoggiate no così non le vedete sono appoggiate al rametto comunque non appena nascono Leonardo vi farà vedere come sono poi magari le liberiamo insieme in un video fuori in giardino va bene ciao Leonardo Di con Mauro e Tric ci danno tanta allegria c'è la simpatia dei video di Leonardo Di grazie a tutti grazie a tutti